L'associazione Luigi Gaeta ha ancora una volta in campo con una rievocazione storica di interesse per il Sud Italia. Certamente, perché abbiamo ritenuto che il Cristo si è fermato a deboli, fosse attualissimo, anzi molto più importante oggi che neanche ieri. Quando Levi ha descritto quella situazione, oggi riteniamo che sia molto più grave di quanto lui avesse immaginato. Ed è per questo che abbiamo deciso di mettere in campo la rievocazione affinché potessimo avvicinare tutti coloro che non hanno letto il libro, per facilitare la lettura. Sì, io sono particolarmente contento di questa opportunità che mi viene data dall'associazione. Prima di tutto perché alle spalle c'è un concorso di grandissimo valore e di grandissima qualità. E quindi mi inserisco in un contesto importante. Secondo perché ho l'opportunità di rievocare Cristo si è fermato a deboli, un libro che ho sempre amato e letto. Una cosa che avevo già dentro da tempo. Quindi poi quando ho conosciuto Tullio Gaeta, che è un musicista secondo me di rara emozione, di capacità emotiva, e ho sentito le sue musiche, le parole di Levi le avevo già dentro. E' stato, devo dire, tutto sommato abbastanza facile. Ho la sensazione che vedere in scena Carlo Levi e vedere in scena quei contadini, vedere in scena quelle problematiche, si continuerà a pensare che Cristo forse davvero non è riuscito ad andare oltre a eboli. E' una realtà che in pochi anni è diventato un punto di riferimento sulla questione meridionale, innanzitutto, perché l'associazione si è fatta promotore di un evento unico in Italia, che partirà dal primo ottobre, quindi dalla ricorrenza annuale, su un evento che credo che darà valore e spessore storico e culturale a tutti i mezzogiorno. E poi, devo dire, da due anni, solo due anni, si è avviato un concorso che ha già raggiunto livelli di partecipazione importanti, ma in modo particolare credo che il contenuto culturale del concorso è fondamentale. Fatto in una città in cui i brand, i nomi di eboli, ultimamente anche risulta essere molto, diciamo, importante nell'ambito del marketing e della comunicazione, se oggi c'è un brand eboli è grazie anche a Carlo Levi, al Cristo si è fermato ad eboli. A questo si è voluto dare una valenza storica, attraverso una rievocazione importante, significativa. Quest'anno ci sarà, diciamo, un avvio di un percorso di rievocazione, sperando che diventerà questa stessa un evento nell'evento. La città di eboli, assessore, è orgogliosa di ospitare questa rievocazione che avvicina tanto le giovani generazioni? Non solo l'amministrazione è orgogliosa e ringrazia l'associazione Gaeta nella persona del presidente, Rosario Gaeta, che da due anni fa un lavoro egregio con questo concorso Carlo Levi, che riesce a puntare di nuovo i riflettori su quella che è la questione meridionale, che ormai è scomparsa. Sicuramente la situazione che Levi raccontava è lontana dal punto di vista storico, ma non lontana dal punto di vista della condizione di isolamento, che ahimè ancora vivono alcune zone interne. Ma non è solo un discorso di isolamento, c'è un vero bisogno di rilanciare tutte le nostre risorse. E questo è un esempio di come si riesce a mettere a sistema tutto quello che può essere l'arte, attraverso la musica, attraverso una vera e propria rievocazione, in una location davvero suggestiva, che sarà quella del chiostro della città di Ebboni.